Buongiorno, questa è la scatola del prodotto che contiene le forbici, il pettine, il balsamo per la barba e la lozione per favorire la ricrescita. Ricrescita che si ottiene anche con l'apposito strumento sempre in dotazione, formato da un rullo pieno di microaghi che vanno a massaggiare la pelle e a creare dei microfori e quindi a stimolare la crescita della barba, un prodotto che è un ottimo regalo.